Grazie, Presidente. Terro fede del suo invito alla sospensione entro le 13.30, quindi solo 30 secondi, per dire che questa non è una proposta di legge che va annoverata nel novero di quelle utili è in realtà del tutto necessaria. È questa l'epoca delle grandi migrazioni e tra quelle migrazioni ci sono giusto appunto i minori non accompagnati, persone meritevoli di un'unità tutela se vogliamo addirittura maggiore rispetto a tutti gli altri che pure fuggono da situazioni di guerra, di povertà, di mancato rispetto dei diritti umani. A queste persone si rivolge questa legge, tentando per la prima volta di dare un quadro di riferimento normativo unitario a un fenomeno che invece fino ad oggi era vissuto in termini molto frastagliati. Ed è per questo che affronta tutte le tematiche che vanno dalla identificazione, uso l'espressione tra virgolette, cioè sulla necessità di stabilire la realità della persona attraverso una procedura multidisciplinare nei confronti del minore fino a garantire uno standard di accoglienza nelle strutture che poi sono destinate a ospitare i minori in questione. La necessità è che non ci si può nascondere che questo è un fenomeno che esiste e esiste in termini numerici drammaticamente crescenti nel nostro Paese all'interno di tutta l'Europa. Quindi noi speriamo che il lavoro del Parlamento porti, anzi siamo convinti che il lavoro del Parlamento porterà a una legge che dia il miglior aiuto possibile in questa gestione. Pensiamo anche e auspichiamo anche che sia un ulteriore segnale nei confronti dei nostri partner europei per attestare che non è un problema solo nostro, ma quello dei minori accompagnati è un problema che ci coinvolge tutti. Grazie Presidente. Grazie a lei e in seguito del dibattito è rinviata l'altra seduta. Colleghi, io ho ricevuto sollecitazioni da diversi colleghi ad ampliare il periodo di sospensione, però noi sappiamo che abbiamo una giornata abbastanza complessa, quindi io direi se sei d'accordo possiamo fare alle 14.15, quindi facciamo tre quarti di ora anziché mezz'ora, però alle 14.15 riprendiamo con il punto all'ordine del giorno. Quindi la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 14.15. Grazie. Grazie.